Tutti ai posti di combattimento 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 Allarme incendio Generatore di fumo avviato Colori a dritta Problema risolto, signore Colori a dritta Colori a dritta fumogene Allarme incendio Siluri dritti di poppa Siluri a poppa Colori a dritta fumetta Eccle Colori a dritta fumetta Certi Allarme incendio! Problema risolto, signore! A tutte le unità, concentrare il fuoco sul bersaglio! Allarme incendio! Allarme incendio! Allarme incendio! Allarme incendio! Avvistato incrociatore nemico. Generatore di fumo avviato. Perfetto di fumo. Rilasciata cortina fumogena. 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 Problema risolto signore. Siluri dritti di poppa. Siluri a poppa. La nostra squadra ha in vantaggio. Avvistata cortina fumogena. All stations, concentrate fire on the target. La nostra squadra ha in vantaggio. La nostra squadra ha in vantaggio. Grazie. 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 Grazie.